Erano in tanti ieri per il secondo appuntamento dell'edizione 2022 della rassegna Il suono della ricerca nel chiostro della cattedrale di San Lorenzo a Perugia. Il concerto dell'orchestra da camera di Perugia insieme al pianista Manuel Magrini, in programma musiche di Benjamin Britten, dello stesso Magrini, di Andrea Rellini e di vari autori della tradizione sudamericana.